Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 4 novembre. Ariete. L'umore è altalenante, la luna un po' vi sostiene e un po' vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegno. Non siate intransigenti nel pretendere che tutti rispettino i vostri principi. Lasciate libertà di scelta. Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi, limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non vuoi. Il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Gemelli, recuperato il controllo delle emozioni e con esso il sorriso, troverete l'energia necessaria per ultimare un lavoro da consegnare a breve. Mettete da parte le grandi riflessioni filosofiche e affrontate le sfide pratiche che la vita vi impone. Cancro e i pianeti vi offrono buone occasioni per mettere in luce le vostre qualità, ma emotivamente non siete nella condizione giusta per esprimerle. In ambito professionale dovrete aggiornarvi sulle novità e sulle nuove procedure del vostro settore. Leone, la spinta positiva della luna ha un effetto immediato sul vostro umore. Attenti però a calcolare e a dovere i rischi di una scelta azzardata. Vi sentirete in sintonia con una persona straniera conosciuta da poco. La sua cultura vi affascinerà. Vergine, forse non sarà una giornata esaltante, ma per quanto riguarda le finanze e gli impegni professionali, potrete ottenere belle soddisfazioni. Liberate la casa da oggetti che non utilizzate più. Sarà un gesto simbolico per guardare al futuro. Bilancia, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle oggi vi confondono e vi complicano la giornata. Difficile trovare un equilibrio. Scorpione, troppo spesso seguite la vostra personale visione delle cose. Un lavoro svolto insieme ad altre vi costringerà a considerare punti di vista diversi. Terminate gli impegni professionali. Per ricaricarvi a dovere, dedicatevi ai vostri hobby creativi. Sagittario, siete piacevoli e divertenti. Tutto ciò in cui vi impegnate si tinge di vivacità. Giocherete anche la sensualità con intraprendenza e malizia. Sarete ottimi organizzatori del tempo libero. Uscirete a coinvolgere chiunque vi giri intorno. Capricorno, Luna e Urano rimano contro. L'umore non è dei migliori, ma saprete come mettere in risalto le vostre qualità. Prima fra tutte, la grande efficienza. Non abbiate fretta di concludere un affare. Il tempo vi fornirà nuovi, importanti elementi. Aquario, una ventata di ottimismo alimenta il buon umore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi. Una decisione presa seguendo l'istinto, senza soffermarsi e riflettere troppo, si ribellerà azzeccato. Pesci, in ambito professionale avrete delle conferme. Troverete dei punti di contatto con chi vi è accanto e compirete un ottimo lavoro di squadra. Concentratevi sull'attuazione dei vostri progetti, valutando nel dettaglio gli aspetti economici. Grazie a tutti.